Tagliare i costi della politica Il Consiglio regionale ha esaminato e approvato alcuni provvedimenti per ridurre i costi della politica. Nella seduta del 2 ottobre la legge per stabilire nuovi tagli su indennità e rimborsi dei consiglieri e nella seduta del 3 la riforma dello statuto per la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori. Il 2 ottobre inoltre l'Assemblea ha concluso il dibattito e ha votato gli ordini del giorno sulla crisi occupazionale. In evidenza La legge di modifica statutaria proposta dall'ufficio di presidenza che riduce il numero dei consiglieri da 60 a 50 e degli assessori da 14 a 11 è stata approvata dal Consiglio regionale il 3 ottobre. E' stato inoltre posto un limite al numero degli assessori esterni, cioè non consiglieri, che non potranno essere più di tre a partire dalla prossima legislatura. Sono molto soddisfatto dell'approvazione di questa modifica statutaria. D'altronde circa un anno e mezzo fa l'avevo proposto con l'ufficio di presidenza e in allora avevo fatto anche un po' qualche scossone, non è che fossero tutti favorevoli, ma avevo già in allora la consapevolezza che bisognava arrivare a questo risultato. Ringrazio quindi il Consiglio regionale che lo ha saputo fare oggi, ringrazio il Presidente della Regione che ha avuto un ruolo determinante per l'accelerazione di questo percorso. I consiglieri regionali dalla prossima legislatura passeranno da 60 a 50, quindi meno 10. Gli assessori da una potenzialità di 14 ad un massimo di 11, quindi meno 3. Una cifra di oltre 15 milioni di risparmio, ma soprattutto anche un'introduzione di una efficientazione del processo legislativo. Credo che il Piemonte abbia dimostrato ancora una volta di sapere dare delle risposte importanti, magari in un momento contingente e difficile, che però non conclude il nostro impegno, anzi è un cosiddetto a seconda fase di un impegno che ha già generato nei primi due anni e mezzo di legislatura importanti risparmi e importanti scelte di riduzione. Focus Con 52 sì e un no dei pensionati, il Consiglio regionale ha approvato il 2 ottobre la proposta di legge frutto dell'attività del tavolo di concertazione per stabilire nuovi tagli su indennità e rimborsi dei consiglieri. Il provvedimento riduce alcuni rimborsi ai consiglieri e prevede verifiche di irregolarità sulle spese dei gruppi. Azione cosmetica oggi del Consiglio regionale con il ravvedimento tardivo sulla questione delle autodichiarazioni, cioè le famose dichiarazioni con cui i consiglieri avevano accesso alle rimborsi spese e ai gettoni di presenza per presenze sul territorio, a sagre, feste e quant'altro. Noi chiediamo di più, abbiamo presentato tre emendamenti che purtroppo sono stati bocciati, li presenteremo nel tavolo di concertazione sulla riduzione dei costi della politica per togliere i rimborsi forfettari globalmente e eliminare i gettoni di presenza e ridurre anche il rimborso chilometrico. È stato approvato il provvedimento che riguarda il taglio ai costi della politica, provvedimento che è uscito dal tavolo di concertazione, riguarda soprattutto l'abolizione delle autocertificazioni, provvedimento che mi trova assolutamente favorevole. Quello che voglio dire però è che questo non è un traguardo, ma la continuazione di un percorso. Adesso noi aspetteremo nei prossimi giorni i provvedimenti che prenderà, che dovrebbe prendere il governo e poi ci ritroveremo subito dopo per continuare appunto questo percorso che porti a una razionalizzazione, a una riduzione di predetti costi della politica. Gli atti che ha compiuto il Consiglio regionale non sono importanti, sono giusti e purtroppo tardivi. Le proposte che il Consiglio regionale ha trasferito in legge sono quelle che il Partito Democratico da un anno e mezzo a questa parte aveva rilanciato al centro del dibattito nel Consiglio regionale e nella regione Piemonte. Ci è voluto lo scandalo del Lazio per suscitare impegno e disponibilità da parte di altre forze politiche. È un pezzo del lavoro che dovrà essere completato attraverso la revisione del finanziamento dei gruppi e il trattamento economico dei Consigli regionali. Oggi il Consiglio regionale ha dato una dimostrazione di grande attenzione verso l'opinione pubblica. Eravamo e siamo consapevoli dei problemi economici e sociali che tormentano le famiglie piemontesi e per cui abbiamo deciso di fare dei tagli ai costi della politica. Sono stati eliminati i viaggi in aereo all'estero, sono stati ridotti da 12 a 7 viaggi in aereo nazionali e soprattutto è stato eliminato l'istituto dell'autocertificazione che ha fatto molto discutere in questi giorni. E infine, cosa importantissima, abbiamo deciso di ridurre del 20% il finanziamento ai gruppi consigliari. Il Consiglio delle Autonomie Locali, presieduto da Carlo Riva Vercellotti, ha approvato il 3 ottobre, con 27 voti favorevoli e 4 contrari, la proposta in merito al riordino delle province nell'ambito della spending review, chiedendo che la decisione sia recepita dalla Regione nella deliberazione da presentare al Governo. La proposta prevede la riduzione da 8 a 4 province piemontesi così articolate. Provincia di Torino, futura città metropolitana, provincia di Cuneo, con il mantenimento dei confini attuali, provincia di Asti, Alessandria, provincia del Piemonte Orientale, i cui confini sono quelli delle attuali province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Biella e Vercelli. La votazione si è svolta dopo un lungo e acceso dibattito, che ha visto rappresentanti delle province di Asti, Biella e Vercelli esprimere la maggiore contrarietà per una proposta che non considera l'espressione e la volontà di porzioni importanti del territorio. Nella seduta del 2 ottobre, il Consiglio regionale ha concluso il dibattito sulle comunicazioni della Giunta, sulla realtà produttiva della nostra Regione e sulla crisi occupazionale, con particolare riguardo alla Fiat e alle aziende minori. Sei gli ordini del giorno votati. Sono stati approvati 5 documenti per salvaguardare l'indotto auto in Piemonte, presentati rispettivamente dal Partito Democratico, dalla Federazione della Sinistra, dall'Italia dei Valori, dalla Lega Nord e dal Movimento 5 Stelle. Il Presidente della Regione ha adottato il decreto che fissa per l'11 novembre lo svolgimento del referendum consultivo, nel quale i cittadini di Leini, Settimo, Borgaro e Caselli torinese si potranno esprimere, favorevoli o contrari, alla creazione di un nuovo comune, che riunisca l'abitato di Mappano, attualmente diviso fra i quattro comuni. Mappano non è una frazione di Settimo Torinese. Averla inserita in questa iniziativa di formazione del nuovo comune, noi riteniamo sia sbagliato. Su quel territorio che Settimo Torinese ha investito molto, costruendo più di un milione di metri quadri di parco pubblico cittadino. Pensiamo che sia sbagliato consegnarlo al nuovo costituendo comune di Mappano senza garanzie a riguardo. Peraltro, formare un nuovo comune, un piccolo comune di questi tempi, riteniamo sia un gesto sbagliato e quindi chiederemo ai nostri cittadini di votare no. Siamo qui in Consiglio regionale dove abbiamo trovato grande solidarietà da parte di tutte le forze politiche. Perché istituire oggi un nuovo comune? Perché Mappano è un grande comune di più di 8 mila abitanti e perché Mappano ha dei gravissimi problemi essendo suddiviso in quattro diverse frazioni amministrate da diversi comuni. Questo ha portato tutta una serie di problemi di tipo ambientale, di tipo amministrativo, per cui noi ci troviamo a non avere una rappresentanza e non riuscire a risolvere questi problemi. Confidiamo nella solidarietà di tutti i cittadini che votino sì e ci diano un futuro migliore. In breve si chiamano Celestina, Carla, Cristina, Adriana, Don Bartolomeo e Marco, una missionaria laica, un'imprenditrice, una docente universitaria, un sacerdote e un musicista. Sono i cinque emigrati che grazie ai meriti espressi in svariati campi di attività il 28 settembre nella cerimonia ufficiale a Palazzo Lascaris hanno ricevuto il premio internazionale piemontese nel mondo, edizione 2011. Premiato Don Bartolomeo Bergese per meriti in campo sociale, Adriana, Cristina Crolla per meriti in campo letterario, Celestina Fortina per meriti in campo sociale, Carla Merrone Squatrito per meriti in campo sociale e Marco Rosano per meriti in campo artistico. In questi ultimi anni sono contento di dedicare questi miei ultimi anni della vita ai problemi sociali, soprattutto con i contadini poveri del nord-est del Brasile, bambini disabili, ragazzi di strada e anche un centro di promozione dei diritti umani perché sentiamo che è molto importante aiutare le persone ad avere rispettati i propri diritti fondamentali alla vita e a tutto quello che è importante per vivere. Io sono insegnante all'Università del Litorale, insegno letteratura italiana, studio molto sull'immigrazione italiana dalle mie parti. Credo che questo è stato il valore che la regione Piemonte ha ritenuto. Sono fiera di far conoscere tutto questo, tanto in Italia quanto in Argentina, nella nostra Pampa Gringa, che così si chiama la parte dove sono arrivati gli italiani, soprattutto gli piemottesi. L'inno gastronomia come eccellenza a difesa della qualità e opportunità di sviluppo è il tema di copertina del nuovo numero di Notizie, la rivista della regione Piemonte da pochi mesi rinnovata nella grafica e nei contenuti. Il cibo, tra ricerca, tradizione ed economia, è anche al centro del convegno in Piemonte con gusto, tenuto a Palazzo Lascarisi il 27 settembre, con la presentazione dei servizi di attualità e approfondimento del numero 3 del Magazine Notizie. Un modo veloce per essere sempre informati su disegni e proposte di legge e di delibera, su interrogazioni e interpellanze presentate, discusse, approvate in aula e in commissione. Basta un clic e qualche minuto. Il Consiglio regionale offre un servizio mail che permette al cittadino di seguire l'iter degli atti divisi per materie. Dal sito www.cr.piemonte.it, aprire la tendina Leggi e banche dati, cliccare Info atti del Consiglio ed effettuare la registrazione. L'utente potrà poi scegliere quali atti seguire, in che arco di tempo e per quale materia, dall'agricoltura alla sanità, dagli enti locali alla cultura, dal turismo alla caccia. 40 studenti di 28 istituti scolastici superiori del Piemonte sono stati a Berlino per il viaggio studio organizzato dalla Consulta Europea del Consiglio regionale del Piemonte nell'ambito dell'iniziativa Diventiamo Cittadini Europei. Gli studenti piemontesi hanno visitato il Monumento dell'Olocausto e il Memoriale del Muro e hanno incontrato giovani studenti tedeschi del Movimento Europeo. Grazie per la visione!